Bella a tutti e bentornati sul mio canale, questa volta siamo su un nuovo gioco di cui vi farò vedere più o meno credo soltanto l'inizio e lascerò a voi decidere magari se continuare o no la serie su, continuare la serie su, magari iniziarci su una serie comunque il gioco è Mark Ecos Getting Up e parla di Train, questo tizio che vuole ovviamente, non me lo ricordo più perché ci ho giocato per la Play 2 anni fa comunque è una gran figata se riescono a beccarti sei pietro, se invece non ci riescono devi scappare, nasconderti, per sempre, per sempre neoradius non è molto amichevole, ora invece non ci tolgono gli occhi di dosso quelli erano gli anni d'ora, nel tempo neoradius era una città viva l'espressione della cultura osservano ogni nostra mossa devi scappare, nasconderti ecco qua, la grafica è questa perché come ho fatto a cacciarmi in questo casino? io volevo solo graffiare e farmi rispettare i capelli grigi sono i graffitti di Dio, diceva sempre mia nonna ora capisco che voleva dire cavolo, fa un caldo comunque cominciamo dopo il piccolo filmadino di introduzione e l'introduzione che vi ho dato anch'io in cui non vi ho detto assolutamente nulla piantala con questa storia di diventare un grafico quella non è arte, sono solo stupidi scarabocchi se continui così farai la stessa fine di tuo padre morirai per la strada col train crawling se ora te ne vai sappi che qui non tornerai mai più una scossa di energia con NNR è la luce dei nostri occhi care NLight buonasera New Radius qui Karen Light oggi il portavoce del cinema che grafica ha annunciato il suo impegno a ripulire l'intera città e a risanare il tessuto urbano con l'attuazione di una nuova strategia denominata ricostruire, rinnovare e rivivere err 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 ok credo che sono solo un branco di pistagionati io comunque credo che da qua inizia tutto ok 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 ecco appunto cosa che faccio io taglio fino a sto punto perché fino a prima c'è stato il tutorial e adesso ancora sto nel tutorial è tipo quanto? 40 minuti che gioco tanto vale tagliare una buona parte e faccio un piccolo riassunto dato che credo che taglierò fino a sta parte comunque ho trovato delle bombolette ho fatto ovviamente graffiti su mezza città e ne ho fatto un altro adesso ok adesso sto ovviamente in una scuola che dovrebbe essere la mia casa base casa base che cazzo sto di? la mia base operativa eh già va meglio e sto scrivendo sui graffiti degli altri writer gli altri tizi che scrivono sui muri per fargli capire chi comanda ok sto guadagnando lo sblocco gran bella mazzata ehi cosa cazzo? cosa cazzo? via qua via qua cojone mamma mia via qua boom boom madonna le botte mori fanculo ma che è l'isso? ok sono andato al bagno amico te l'ho detto dov'è il resto della tua club di merda? eccoli che liscio boom 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 mazza che volo che volo eccoli che cazzo fai? molto divertente boom 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 fattaci i grandi brugne siete dei pallini mamma mia carcelotante volante girevole boom stile Jack Morris guarda come mora tu muri ho rotto boom 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 carcelotante pugno a martello madonna le botte che gli sto dà è questo il bello del suo gioco mamma mia ginocchiata no è ancora meglio che roba che roba comunque il bello di questo gioco è che si se schiaccio il tasto giusto è meglio levando il fatto che è impossibile giocarci col joystick perché non c'ha tassi però è bello perché li metti a scrivere sui muri fai bella roba vai in giro mini un sacco di gente e che altro e quando ci ho giocato sulla video mi è piaciuto quindi quando ho visto che è uscito per pc ho fatto me coglioni giocamoci vattene a casa toi ho sentito la tua mammina che ti chiamava certo certo come salite sto certo certo boom 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 potrebbe tornarmi utile e qua aspetta boom o meno da un'altra parte barca droia morca crepa aspetta boom 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 oh c'è morto ok ora devo trovare un posto per collassare e darmi una ripulita esatto mi metto attento fino alla parte in cui lui poi foto ok ok ci stanno i graffitisti leggendari mi ha fregato la roba si mo gli diamo una non ti preoccupa che quando gli fai la foto gli aggiungi nel tuo book mamma mia la roba che c'ho da fa qua fammola tutta foto ok 100% delle leggende mamma mia sta mazza chiodata mi ispira non qui come non qui guarda un po' questo è il grande penarello è grosso tipo il braccio di un neonato colpa mia è colpa mia vai scrivi train vai altri 4 non c'è spazio fisico per scrivere scriviamogli sopra gg mi scrivo sopra da solo disrespect buono another one è più bevanti più sblocchi i graffitifichi quindi è meglio poi c'è un sacco di altre cose la storia ho saltato da una parte probabilmente adesso tagliando tutto quel pezzone ma manco tutto conta poco alla storia praticamente avevo appena iniziato a scrivere avevo appena iniziato a scrivere sui muri e un altro tizio di un'altra crew si è incazzato perché ho scritto sopra il pezzo e mi hanno rubato le bombolette fine mo gli sto a rubare un punto dove loro scrivevano che sarebbe questa scuola qua che diventerà la base operativa mia e il resto non ve lo spoiler se volete seguire la serie train davanti al bravo niente gocce veramente due tre gocce ci stanno non sul graffito però ci stanno questa mi piace sto stile è che la due gocce ti è perfetto perfetto ovviamente se i graffiti si facessero a sto modo qua tutti bravi a farli tutti e metti sul muro fai la bomboletta così e cammini dritto non facile vai 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 dove manca ah la sopra e qua sotto oh ma più fino di così 100 da 100 graffi di bonus hop bello dov'è il resto della tua crudin merda non lo so non lo so lo sai benissimo invece yes you no sputa credi da pure di cavartene oh stavo a sputare vatti da casa levati ho sentito la tua bambina che ti chionava ma che cazzo sei mamma mia le botte che ti do boom 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 pugno a martello taci tu e qua contro le cose deficiente mamma mia le cacce che ti do boom caccio rotante la chuck norris brano le bot sbloccato perché ora ho visto boom oh questo non muore mai eh portaci le botte che te so da carcelo dante boom 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 carcelo dante boom boom via qua via qua boom oh oh sarà baggato levati di là boom ma non sta lì vabbè fa niente ho costretto quel banner a dirmi dove era dire che sguardo fiero stavano andando a bombardare il deposito della metropolitana mi ha anche detto che prendendo il tunnel vicino alla scuola ci arriverò in un attimo alla fine gli ho ricordato che la scuola aveva un nuovo padrone e che comunque faccia spazio in giro la voce vai ce l'ho eh stavano i capelli perché è stato il fancallo ah è così vogliono fare sul serio eh ora gli farò vedere io ti è qua non riuscivo a controllarmi dovunque guardassi vedevo solo superfici da graffiare e pensavo a come bombardarle ormai ero in ballo ero pronto a lasciare il segno nella metropolitana era come come una catapulta comunque più o meno questo si può definire un episodio pilot della serie episodio 0 no vabbè episodio 1 penso di continuare il gioco perché a me piace fatemi sapere se volete che continuo la serie e se il video vi è piaciuto mettete un mi piace condividete iscrivetevi qua esco e noi ci vediamo in un prossimo video